e ciao a tutti sono felice sono contenta sono felice perché 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 indovinate un po grazie al comune di milano ha finalmente archiviato quel famoso verbale quindi la mia targa non è clonata non è la mia macchina ad aver commesso tutte quelle infrazioni né a firenze né a milano ci sono volute tre telefonate e tre mail però alla fine ho appena ricevuto ecco ve lo leggo perché qui nel computer archiviazione verbale quindi non abbiamo più niente da da temere da niente niente da nessuno ok grazie al comune di milano al prefetto al commissario capo di polizia locale e grazie a voi per avermi consolato e anche cercato di aiutare con vari consigli grazie